Siracusa anche la città in piazza per e con le famiglie Arcobaleno e il 25 marzo Flashmob a Catania in piazza Stesigoro. Anche Siracusa con i rispettivi presidenti di Arcicay Siracusa Armando Caravini e Stonewall Alessandro Botaro prenderanno parte alla grande manifestazione a difesa dei diritti delle famiglie Arcobaleno che si terrà a Catania sabato 25 marzo dopo quella che la scorsa settimana ha portato in piazza più di 10.000 persone a Milano. Ad annunciarla l'associazione Famiglia Arcobaleno insieme a tante altre realtà LGBT plus di tutta la Sicilia orientale. La manifestazione segue le decisioni del governo di riconoscere esclusivamente il genitore biologico ai figli della famiglia Arcobaleno ma le nostre figlie e figlie hanno già due genitori di Chiara e Gledoria referente interna Famiglia Arcobaleno Sicilia. Li hanno da prima di venire al mondo, li hanno nell'amore e nella cura quotidiana. Il governo prosegue, prende bambini felici e amati da due genitori e gliene sottrae uno. È disumano ma non lo permetteremo e diciamo giù le mani perché quelli sono i nostri figli e le nostre figlie per loro noi siamo pronte a tutto. Grazie. Grazie.